Alla vigilia dell'udienza preliminare sull'inchiesta relativa al sistema idrico del Gran Sasso, i comuni di Teramo e di Isola del Gran Sasso assieme all'ente provinciale hanno deciso di costituirsi parte civile. Infatti per domani è fissata l'udienza preliminare al termine della quale il GIP dovrà decidere se mandare a processo i 10 indagati, così come chiesto dalla procura o disporre il non luogo a procedere. Udienza nel corso della quale con ogni probabilità chiederanno di costituirsi parte civile anche molte associazioni ambientaliste, così come hanno già fatto in tante altre vicende legate proprio alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Abbiamo deciso di avviare quest'azione comune per la costituzione di parte civile all'interno del procedimento penale. Non è un'azione contro qualcuno, è un'azione per il territorio, per il diritto alla salute dei nostri cittadini, per la tutela dell'ambiente e anche per la tutela dell'immagine delle nostre città, della nostra provincia. È un'azione forte, ripeto, che non ha solo un risvolto di carattere giuridico, ma ha anche e soprattutto un risvolto di carattere politico istituzionale forte. Ospichiamo un allargamento ad altri comuni, un dialogo permanente con le associazioni che faranno la loro parte. È un momento decisivo per risolvere finalmente un problema che il nostro territorio subisce da troppo tempo e rispetto a questo momento noi la nostra parte la vogliamo fare, la dobbiamo fare ed è anche questa una piccola rivoluzione rispetto al passato. L'acqua della captata nel comune di Isola del Gran Sasso va distribuita per tutto il territorio del Terramano. No, è una questione sollevata ormai da anni, è un problema che va risolto, va risolto alla radice, io non ho la risoluzione del problema, non so quale sia, però va studiato e per questo ringrazio che oggi la provincia, il comune di Terramo che si è affiancata a questa costituzione, diciamo a questa battaglia che perché una battaglia deve essere ma non per trovare i colpevoli perché a me di trovare i colpevoli non è compito mio, non mi interessa, mi interessa trovare la soluzione alla radice, cioè io mi interessa che qualcuno viene a Isola e possa bere l'acqua tranquillamente senza porsi il problema di chiedere se l'acqua è potabile o non è potabile come lo era alcuni anni fa.